Avete baciato Le scarpine Le scarpine nuove Ma cambiate un po' progetto Non mi hai filmato Si che ho filmato e l'ho diretto contro di voi Ah si, lo avrete noi E voi? Appena lo facciamo noi Si E voi? Niente? A me Ehm Il gruppetto L'obelisco di bazar Mwahaha E' la lì non è mica vestita da gazzare Cosa? Ehi Ehi Cosa? Cosa è? Ah si, esemplari in giro per Roma Ok Non andate anche lì